E' importante precisare che nonostante gli ultimi dati, sempre confortanti, l'emergenza non è ancora terminata e che ora più che mai vale l'obbligo di restare a casa. Lo hanno affermato a più voci i sindaci Blei e anche il direttore generale dell'Aspi di Ragusa, Angelo Aliquo, che in una sua nota ha proprio ribadito di non farsi tentare dai numeri. La notizia che stiamo uscendo dall'emergenza è pericolosa quanto quella data in anticipo che stavano per istituire le zone rosse al nord. La gente si sentirà autorizzata a uscire da casa, così come si è sentita legittimata a fuggire per espandere l'epidemia. In tale direzione anche l'appello recentemente diramato dal sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, che tramite videomessaggio ha spiegato che oggi è molto più importante, nonostante le belle giornate, restare a casa. Il tutto anche alla luce delle fin troppe auto che si sono viste negli ultimi giorni in giro tra le vie di diversi comuni Blei. Ma passando alle novità di oggi continua a diminuire il numero dei ricoverati al maggiore di Modica, dimesso ieri un ragazzo di Comiso. Si tratta del figlio della prima coppia ricoverata in malattie infettive. Il giovane, ormai asintomatico, potrà continuare la propria convalescenza controllata direttamente nel proprio domicilio. Dimessa anche la donna di Donna Lucata, ricoverata al maggiore da ormai più di una settimana, lo stesso sindaco di Scicli, in costante contatto con la concittadina, ha dichiarato che le sue condizioni non sono più problematiche e quindi può tranquillamente continuare ad essere attenzionata direttamente nel proprio domicilio. Attese invece le dimissioni di un terzo ricoverato, anche lui asintomatico. Resta quindi invariato il numero dei ricoverati provenienti da fuori provincia. Ad oggi tre di Rosolini e uno di Gela. In merito proprio a quest'ultimo, l'ASPA ha dichiarato che il giovane è stato inviato dal suo medico di base e senza alcuna indicazione epidemiologica del Covid. È giunto al pronto soccorso di Vittoria accompagnato da un familiare. È stato fermato dall'infermiere del triage che ha svolto le indagini di rito e gli è stata anche misurata la temperatura. Il paziente risultava sfebrato. Ha fatto il percorso normale per accedere all'unità di chirurgia vascolare dove ha accusato un improvviso malore e ha perso i sensi. Le sue condizioni restano critiche e quindi attualmente si tratta dell'unico ricovero nel reparto di terapia intensiva. Scende quindi a otto attualmente il numero dei ricoverati al maggiore di Modica. Quattro di questi provenienti da fuori provincia e uno solo ricoverato in rianimazione. Grazie a tutti.